Grande fermento oggi a Terramo in vista dei due eventi, quello di questa sera e quello di domani, in programma in centro. Si inizia stasera con Sportissimamente ma vediamo che è già tutto pronto anche per il concerto di domani per ricordare Ivan Graziani. Sì, il palco sarà uno di quelli presenti infatti in Piazza Marti anche per la manifestazione Sportissimamente. La novità dell'ultimo minuto è che siamo contenti di avere in città la delegazione di Memmingen che apriranno questa edizione di Sportissimamente insieme al sindaco Gian Guido d'Alberto con il laccio dell'amore di Penna Sant'Andrea. Quindi un modo molto carino di festeggiare anche questo gemellaggio nel segno dello sport e nel segno delle tradizioni. Avete messo a punto tutti i dettagli che mancavano? Assolutamente sì, quindi io invito tutti i Terramani su Piazza Marti per dare il via a questa grande festa dello sport. Sono attesa in città decine di migliaia di persone quindi veramente sarà un momento bellissimo, un appuntamento di quelli tra i più belli della nostra città. Ricordiamo che domani si inizia presto nel pomeriggio con il concerto per festeggiare gli anni di Ivan Graziani che domani avrebbe compiuto 74 anni. 74 anni sì, già dalle 16 ci sarà l'apertura del MIT della musica inedita terramana e poi a partire dalle ore 17 il grande concerto di Filippo Graziani, Tommy Graziani e la band. Per ricordare questo grandissimo artista che io ripeto sempre dobbiamo omaggiare a molto di più rispetto a quanto fatto in passato e quindi ci sono tutta una serie di iniziative. La cosa molto carina anche è che ci sarà una torta offerta da un bar del centro a tutti i partecipanti, una torta proprio per festeggiare questo compleanno di questo grande cittadino terramano che ci ha reso orgogliosi con la sua musica e con la sua arte.